Community Smart è una startup innovativa nata nel 2017 a Savigliano ed è il tentativo di realizzare una piattaforma digitale dedicata interamente all'informazione locale, un magazine quotidiano dove solo fonti selezionate possono pubblicare. Abbiamo sentito l'esigenza di creare un nuovo spazio digitale dedicato alle comunità locali ma diverso di social network, un luogo protetto dal rumore del web, dall'eccessiva quantità di contenuti e da fenomeni quali le fake news. Infatti su Community Smart possono scrivere solamente fonti certificate, redazioni locali, associazioni, scuole e istituzioni. Community Smart permette di comunicare su una piattaforma dedicata all'informazione locale che sfrutta l'opportunità del digitale e distribuisce l'informazione raccolta sul territorio. Associazioni come la vostra potranno scrivere direttamente sull'app, raccontare le proprie iniziative e coinvolgere utenti e associazioni interessate come vuoi il contesto locale. Community Smart è un'app che si scarica gratuitamente sugli smartphone Android iOS e ha la stessa facilità di consultazione dei social più comuni. Le associazioni che vogliono partecipare devono semplicemente registrarsi sul sito communitysmart.it per creare il canale smart dell'associazione. A questo punto vi verrà inviato un pannello di controllo, ovvero una pagina web, dove troverete semplici strumenti intuitivi per poter scrivere articoli con immagini e video da pubblicare sull'app.